Oggi vi svelo un'app perfetta per chi fa le sbobbinature. L'app è disponibile su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Purtroppo niente Windows e Android, ma sarà un grandissimo aiuto per chi fa questo tipo di operazioni, quindi sbobbinare dei file, eccetera, eccetera. Ci sono altre funzioni di questa applicazione che vi ho elencato nel video appena uscito su YouTube. Vi lascio il link sul mio profilo TikTok. L'app è questa, si chiama Noted. Si divide qui nella parte sinistra con i taccuini, dove all'interno possono contenere delle note. Per esempio, prendiamo questa nota che ho fatto, vedete. Intanto si può usare come app normale per prendere appunti, ed è possibile usare anche la penna di Apple, l'Apple Pencil. Ma vi dicevo, guardate qui che c'è un registratore, della possibilità di sbobbinare. Vi faccio un esempio. Qui in alto noi possiamo avviare una registrazione, quindi mettiamo il caso che il professore sta parlando e noi nel frattempo stiamo registrando quello che sta dicendo. Vedete qui, io posso inserire un'etichetta, cliccando qui, e potrò mettere il macro argomento, per esempio Dante. E vedete che c'è anche il tempo, questo contatore del tempo, che ci indica da dove inizia a parlare di Dante. Successivamente dopo, io che cosa ho messo? Ho creato facilmente delle altre sezioni, dove per esempio il professore ha parlato di opera, vita, eccetera, eccetera, di Dante, per esempio. E accanto c'è sempre il tempo. In questo modo, se clicco nel tag, vedete che si sposta qui la registrazione. Lo posso fare anche con questi. Vedete, si sposta sempre a seconda del minuto qui indicato.